Chiedo un intervento prima dell'inizio della stagione di potenziare queste benedette scogliere perché io mi trovo veramente penalizzato. Non so dove mandare questi clienti, dove piazzarli. Due file mi vengono a sparire. L'erosione della costa è un problema che accomuna diversi stabilimenti balneari. Così come è successo in diverse spiagge della città di Fano, anche a Baia Metauro gli operatori chiedono al comune di potenziare le scogliere. Ma dopo numerose richieste e incontri con gli amministratori, il gestore di Bagni e la Baia ha deciso di rivolgersi alla redazione di Fano TV. Ci era stato garantito dal sindaco Seri in una riunione dal ristorante da fiore, in presenza del confrattigianato con Andrea Giuliani, tutti i loro operatori, che avrebbero potenziato le scogliere molto deboli qui in zona Baia Metauro e realizzato le scogliere sino al porto. Questa era la voce del sindaco Massimo Seri. Io adesso con la mareggiata del 24 di aprile di quest'anno, dove avevo già finito, spianato tutto quanto, mi ha tolto più di 10 metri di ghiaia, chiamato tempestivamente, mandato delle foto all'assessore Cristian Fanesi, in modo che riescono a vedere in tempo reale la situazione mia. Le scogliere sono deboli e qui, senza aver ancora avuto nessuna mareggiata, la situazione la vedete voi realmente. Mi si sparisce immediatamente due file di ombrelloni. Da sei anni che io sono qui, avevo 30 metri di spiaggia, adesso ne ho sì e no 18-20. E questa realtà io l'ho sempre portata a conoscenza. Qui ci sono tutte le nostre richieste protocollate di operatori di Baia Metauro, anche di avere un sopralluogo, di vedere insieme tutti quanti. Nessuno ci sia fatto sentire. Gli amministratori sono a conoscenza di questa realtà. Però io vorrei anche che ci sia una presenza da parte di loro, una verifica e anche un intervento. A rispondere all'appello di Mauro Talamelli è l'assessore Cristian Fanesi. In quella situazione grossi interventi non sono previsti, però sfruttando magari la presenza del pontone che è disponibile, che riprenderà i lavori a settembre, ottobre, potremo anche pensare di fare dei piccoli lavori di sistemazione dei massi già esistenti. L'impegno che ci può prendere è certamente questo.